il club è stato fondato nel 1981 quindi con un alto rischio coronarie mi raccomando vedete per cortesia di fare un campionato tranquillo e conquistare la salvezza il prima possibile senza arrivare all'ultimo secondo grazie un applauso infine alla a tutti voi qua presenti e per voi dal presidente ivan marco brazzoli alla società all'unione sportiva cremonese un nostro piccolo ringraziamento per aver raggiunto dopo ventisei anni la serie a la cremonese in 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 serie a grazie a tutti grazie grazie bravo grazie grazie un applauso anche al direttore marketing che non ci ha portato nessuna maglia il sindaco premia il direttore sportivo simone giacchetta un applauso grazie